È stato colpito alla testa da un traliccio, è così rimasto gravemente ferito un operaio. L'incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio poco prima delle 14 in via De Cipressi, nella frazione di Spojano, dove un palo della linea telefonica ha ceduto ed è improvvisamente caduto colpendo un 49enne che stava lavorando al taglio e alla potatura di alcune piante. I immediati sono scattati i soccorsi, sul posto è arrivata un'ambulanza, un'automedica e una squadra dei vigili del fuoco. I sanitari hanno poi deciso di chiamare anche l'elisoccorso Pegaso, atterrato in un prato dove ha caricato il ferito, portato poi in codice rosso all'ospedale senese delle scotte. L'operaio è sempre rimasto vigile e cosciente. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che adesso dovranno far chiarezza sull'episodio.